Allora, non mi è piaciuta la proprietà perché nella maniera più assoluta, in settimana ho saputo delle cose confrontandomi con i diretti interessati, Malvini e Massara sono stati cacciati in 20 minuti, è stato cacciato Angelo Carbone in 15 minuti ed è stato persino cacciato in 15 minuti Maurizio Ganz che era già lì da 4 anni a fare la squadra femminile. Ma le ragioni secondo me non sono giustificate per cacciare gente in 20 minuti per non andare, per non ripartire e poi cacciare nessuno in 15 minuti. Oltretutto Malvini, comunque è logico che uno diceva Malvini però voleva comandare, ma io preferisco uno che viene nella mia società e vuole comandare perché mi dimostra personalità. Certo che voleva vendere pasticcini, che faceva? Si chiama Paolo Malvini, anche perché aspetta, perché tu pensi che Ibrahimovic se arriva non vuole comandare. Eccere. Eccere. Eccere.